Cantanti e poeti per un giorno. Al centro di riabilitazione Santa Maria Bambina i pazienti si dilettano con rime e versi in prosa. Nella sala Mastino la decima edizione di incontri di poesia, rassegnata un po' per gioco e divenuta col tempo appuntamento irrinunciabile per gli ospiti della struttura. Protagonisti degenti appunto, autori e declamatori per l'occasione. Un momento di svago ma anche un modo per esorcizzare il dolore e la sofferenza. E per chi non ha potuto partecipare fisicamente perché costretto a letto, la possibilità di seguire l'evento in camera grazie all'impianto tv a circuito chiuso.